è sconosciuta alla scienza cerchio esseno attraverso nt domanda la sindone è autentica come può essere spiegata l'impronta rimasta sul lenzuolo alexander non ci sono dubbi sull'autenticità della sindone quello lenzuolo fu veramente il sudario che avvolse il corpo del cristo e l'energia che si è manifestata in quella occasione è sconosciuta alla scienza voi ne avete avuto esperienza durante le sedute perché è la stessa energia che noi utilizziamo negli apporti noi la chiamiamo come vi abbiamo detto in altre occasioni energia etero cronica voi conoscete cinque tipi di energia e avete inventato costruito strumenti che servono a misurare soltanto questi cinque tipi di energia quindi nessuno strumento sarebbe in grado di misurare l'energia che si produce durante un apporto la luminosità che spesso anche voi avete potuto constatare durante la formazione dell'oggetto è soltanto un effetto che colpisce i vostri sensi ma nessuno strumento potrebbe mai misurarla e quella l'energia che ha permesso l'evento di cui la sindone è testimonianza ma a questo proposito ricordate che il corpo del cristo ha lasciato quell'impronta non perché è ritornato a far vivere un corpo materiale ma perché in quel momento si è completamente disintegrato dopo quel lampo di energia etero cronica non è esistito più un corpo umano quando gesù apparve dopo la sua resurrezione se così possiamo dire era voluto da lui e da altre entità molto elevate affinché gli apostoli potessero credere altrimenti il cristianessimo non sarebbe mai nato ma sarebbe scomparso dopo la morte del cristo sulla croce le apparizioni di gesù così reali che gli stessi apostoli hanno potuto toccare non erano altro che manifestazioni ectoplasmatiche ora se è vero che le manifestazioni ectoplasmatiche per verificarsi hanno bisogno di un mezzo di un canale che fornisca energia vitale è altrettanto vero che per gesù non c'è stato bisogno di niente di tutto ciò perché era un'entità talmente elevata da produrre lui stesso l'energia necessaria energia pura ricordate cosa disse gesù alla donna che lo vide per prima non mi toccare infatti sarebbe stato estremamente pericoloso se lo avesse fatto anche voi avete fatto una piccola esperienza di quanto vado dicendo ricordate il dolore ai polsi che qualcuno di voi ha provato quando inavvertitamente ha toccato il medium mentre stava materializzando un apporto ebbene vi assicuro che nel caso di gesù le energie impiegate erano ben altre egli in quella circostanza si preoccupò per la salute della donna mentre con gli apostoli aveva adottato un altro sistema se così posso dire mentre con la donna era una materializzazione energetica e quindi pericolosa per la potenza di quella energia con gli apostoli era sostanza carnale perché gesù poteva fare questo se noi potessimo questa sera far sì che avvenisse una materializzazione ectoplasmatica voi sentireste e vedreste tutte le condizioni del corpo umano la consistenza il calore le ossa gli organi interni addirittura potreste percepire neanche il respiro capite ma non è un'essenza vera cioè non è una sostanza corporea vera ecco cosa è accaduto ma ciò non toglie nulla alla meraviglia dell'evento anzi pensate all'amore sublime del cristo che ha fatto queste cose affinché il seme da lui gettato non morisse sulla roccia ma germogliasse senza questi fatti riportati anche nei vangeli senza i miracoli che lui produceva il cristianesimo non sarebbe potuto nascere la sua potenza quando era possiamo usare un termine che non è esatto che è improprio quando era vivo ossia un corpo vitale aveva un tale potere che avrebbe potuto veramente spostare i monti capite quindi è chiaro che nel sepolcro non c'era più un corpo e qualcuno sa queste verità tanto è vero che il sudario fu trovato vuoto ma non ripiegato come è stato scritto quindi la sindone come voi la chiamate il lenzuolo che divenne il sudario del corpo di gesù è la reliquia più importante della cristianità è veramente autentico e non badate a quelle sciocche analisi con cui la vostra scienza crede di dimostrare tutto cari fratelli io ho cercato di trasmettervi quel poco che ho consapevolmente interiorizzato come percezione intuitiva badate bene la mia evoluzione non mi consente ancora di essere immerso pienamente nella stupenda inimmaginabile divinità io intuisco appena la luce della verità però ciò mi è sufficiente a farmi capire la grandiosità di ogni singola individualità spirituale è certo che gesù diceva sono figlio di dio ma non lo diceva nel senso che vi è stato tramandato non nel senso che fa anche oggi arrovellare le menti senza dare una risposta significativa gesù era dio come è dio il più umile degli esseri incarnati ma il livello spirituale del cristo era ben diverso